Sono soddisfatto della risposta. Presidente, la ringrazio. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3.516 dell'onorevole Campana ed altri concernente iniziativa a tutela di un cittadino italiano oggetto di minacce in ragione del suo orientamento sessuale da parte di una organizzazione di estrema destra in Ungheria. Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto della Vedova ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Desidero innanzitutto assicurare che la Farnesina, sin dall'inizio, come ho già avuto modo di dire anche in una situazione analoga al Senato, ha seguito da vicino e con il massimo impegno la vicenda che vede coinvolto il nostro connazionale Andrea Giuliano, vittima di inaccettabili insulti e intimidazioni da parte di militanti di estrema destra a Budapest in seguito alla sua partecipazione al Gay Pride dello scorso anno. Una manifestazione in merito alla quale, ci tengo a sottolinearlo, la nostra ambasciata a Budapest aveva assunto una posizione di sostegno a favore dei suoi aderenti e della loro libertà di espressione. Per diversi mesi, signor Giuliano, anche dietro suggerimento del proprio legale dell'Associazione di difesa dei diritti delle persone LGBTI con cui è in contatto, ha optato per la massima discrezione allo scopo di evitare l'escalation della situazione conflittuale in cui si trovava coinvolto. Ha deciso inoltre di non attivare la nostra rappresentanza diplomatica, sebbene fosse a conoscenza della presa in posizione dell'ambasciata italiana in Ungheria a sostegno della libertà di espressione degli aderenti al Gay Pride. La delicatezza della situazione ha tuttavia indotto l'ambasciatore a Budapest, Maria Assunta Cili, a suggerire al signor Giuliano delle ipotesi di intervento a sua tutela. L'ambasciatore a Cili ha quindi incontrato il nostro connazionale insieme al suo avvocato, concordando alcune linee di intervento. Per quanto riguarda la denuncia per diffamazione sporta contro il connazionale, l'ambasciata ha inviato un proprio osservatore all'udienza preliminare del 10 giugno scorso, che era volta ad esperire un tentativo di conciliazione tra le parti e che sia conclusa con l'archiviazione del caso a seguito dell'avvenuto accordo tra le parti. Per quanto riguarda la denuncia presentata al connazionale in relazione ai tentativi di aggressione fisica e alle ingiurie subite, l'avvocato ha scritto alla procura sollecitandone una rapida trattazione. Sono in corso ulteriori interventi di sensibilizzazione con l'assistenza della nostra ambasciata. Vorrei rassicurare che la Farnesina continuerà a monitorare da vicino e con la massima attenzione all'evolversi della vicenda, con l'obiettivo di assicurare in stretto raccordo con lo stesso connazionale e il suo legale la piena tutela dei suoi diritti. Sul piano più generale mi preme mettere in evidenza il convinto impegno dell'Italia a sostenere il principio di non discriminazione e a condannare le esecuzioni, gli arresti arbitrari e la violazione dei diritti umani perpetrate sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. È un impegno che si esplica sia sul piano bilaterale, attraverso azioni di sensibilizzazione, sia in ambito multilaterale, attraverso l'adesione a dichiarazioni e risoluzioni e la partecipazione a iniziative per contrastare le discriminazioni e accrescere la consapevolezza sul rispetto dei diritti LGBTI. A tal proposito vorrei citare una recente risoluzione in materia, quella su diritti umani e orientamento sessuale e identità di genere, adottata anche con il sostegno dell'Italia nel settembre 2014 dal Consiglio diritti umani dell'ONU e che, tra l'altro, conferisce il mandato all'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani di predisporre un compendio sulle buone prassi per la tutela dei diritti LGBTI. Vorrei inoltre ricordare che l'Italia ha anche aderito ad una dichiarazione congiunta circa la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere che alcuni Paesi appartenenti a differenti gruppi regionali stanno promuovendo, nell'ambito della sessione in corso del Consiglio diritti umani a Ginevra. Il testo è stato letto di fronte al Consiglio diritti umani lo scorso 29 giugno e, tra le altre cose, richiama tutti gli Stati membri ad adottare misure concrete per porre fine agli atti di violenza, discriminazione e alle violazioni dei diritti umani commesse sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Con riferimento al caso specifico del Gay Pride di Budapest, vorrei segnalare che, in occasione dell'ultima edizione che ha preso il via qualche giorno fa, il 3 luglio, la nostra ambasciata in Ungheria ha aderito, insieme ad altre 24 ambasciate, alla dichiarazione congiunta in favore della libertà di espressione. Si tratta solo di alcuni esempi che testimoniano, io credo, come il nostro Governo continuerà in maniera convinta a portare avanti in ogni sede opportuna la battaglia contro le discriminazioni perpetrate sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Grazie. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Campana ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Grazie, signor Presidente. Ringrazio il sottosegretario della vedova e il ministro degli esteri per la risposta ai costanti contatti che tiene con Andrea Giuliano. La vicenda di questo giovane italiano è importante e grave perché riguarda non solo discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, ma anche mancanza di libertà di espressione, opinione e satira. Su Andrea è stata messa una taglia e architettata una campagna d'odio che non può essere tollerata in uno Stato membro dell'Unione Europea. Seguito e minacciato, Andrea è stato costretto a cambiare più volte casa e alla fine apprezzò anche il lavoro. Nello ringraziare la Farnesina e il sottosegretario della risposta e soprattutto dell'interessamento delle nostre rappresentanze diplomatiche a Budapest che hanno seguito come osservatori il processo per diffamazione a carico del nostro connazionale, vorrei invitare chi fino ad oggi si è occupato di questa vicenda a non abbandonare Andrea, perché non possiamo permettere che un nostro connazionale all'estero sia fatto oggetto di una simile manifestazione d'odio per la sola colpa di aver partecipato ad un gay pride con un cartellone eronico. Inoltre chiediamo alla rappresentanza diplomatiche di vigilare affinché i processi a carico di Andrea si svolgano in maniera giusta e che quello...